Tacere, minimizzare o restare inerti significa essere conniventi, è il commento dell'Arcivescovo di Trani, Monsignor Leonardo D'Ascenso, alla lunga relazione del procuratore Renato Nitti sullo stato della criminalità nella BAT. Il servizio. Non solo reazioni dal mondo politico, anche l'Arcivescovo di Trani, Barletta Ebiceglie, Monsignor Leonardo D'Ascenso, ha commentato l'intervento del procuratore della Repubblica Renato Nitti sui fenomeni di criminalità nella provincia Barletta Andrea Trani. «Ho preso atto», scrive il presule, «con rammarico e preoccupazione della nota con la quale il procuratore della Repubblica di Trani ha descritto la situazione della criminalità nel territorio della provincia BAT e manifesto tutta la mia solidarietà al dottor Nitti e a tutte le forze dell'ordine che lavorano nelle città e nei paesi della nostra diocesi». Quella prospettata dal procuratore della Repubblica, rileva Monsignor D'Ascenso, è una situazione che suscita grave sconcerto e impone una riflessione e un impegno comune di tutti coloro che, cittadini, istituzioni, chiesa diocesana, hanno a cuore la sicurezza e lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. «È necessario intervenire affinché le forze dell'ordine e la magistratura siano messe concretamente in grado di contrastare i fenomeni criminali. Occorre realizzare progetti che, aumentando in particolare le opportunità di lavoro e di stabile abitazione, impediscano alle organizzazioni criminali di porsi come risposta ai bisogni di vita, soprattutto dei più giovani. «È tempo che tutti noi sentiamo che la sicurezza e la giustizia sono una responsabilità anche personale. Non possiamo rimanere a guardare mentre la delinquenza imperversa e inquina la nostra convivenza sociale». «Restare inerti significa essere conniventi. Tacere o minimizzare significa essere conniventi», spiega l'Arcivescovo. «La Chiesa diocesana continua l'impegno sul solco dell'insegnamento e la testimonianza di verità di Papa Francesco a costruire percorsi di educazione alla legalità, a sostenere le esperienze di unità e di onestà nelle comunità cittadine, a porsi a fianco di tutti coloro che quotidianamente lavorano per estirpare i fenomeni mafiosi e criminali che si sono sviluppati nel nostro territorio, a realizzare progetti di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà, particolarmente in questo tempo di pandemia».